Nelle giornate di domenica 24 e lunedì 25 si voterà in molte scuole d'Italia per rinnovare i consigli di istituto. Consigli che, come stabilisce la legge, sono gli organi di governo della scuola, ma che con il passare degli anni hanno perso molta della loro funzione di promozione della partecipazione delle famiglie. E senza considerare che le norme che regolano il funzionamento degli organi collegiali risalgono al 1974 e non sono state aggiornate neppure con l'entrata in vigore della legge sulla autonomia delle istituzioni scolastiche, come peraltro era previsto già da un decreto legislativo del 1999. Il decreto in questione stabiliva che consigli di distretto e consigli provinciali sarebbero stati sciolti e sostituiti da organi territoriali e prevedeva anche la nascita del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione in sostituzione del Consiglio Nazionale. Da quel momento sono passati 15 anni per arrivare finalmente alla nascita del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, mentre non si parla ancora di organi collegiali territoriali, anche perché non esiste neppure una idea condivisa dalla quale avviare il dibattito. Sei mesi fa il Governo ha presentato una legge delega che autorizza l'adozione di un decreto legislativo per la revisione della composizione e delle funzioni degli organi collegiali della scuola, ma già da subito i sindacati hanno preso le distanze criticando la decisione di usare una legge delega e non una legge ordinaria. Nel frattempo è cambiato il Governo e comunque per la legge non è neppure iniziato l'iter parlamentare, anche se per la verità al Ministero è in funzione da tempo una commissione che sta cercando di predisporre un articolato normativo nel caso in cui l'esame della proposta di legge dovesse iniziare. A conti fatti i consigli di istituto, nati per favorire la partecipazione delle famiglie alla gestione della scuola, sono ormai ben poco rappresentativi della stessa comunità scolastica di cui fanno parte e diciamo pure che fra genitori, studenti e operatori scolastici c'è molta delusione per lo scarso peso che hanno le decisioni dei consigli di istituto nella vita della scuola. È così che in questo clima, fra qualche giorno, in migliaia di scuole italiane si consumerà lo stanco rito del rinnovo dei consigli, con una partecipazione al voto da parte dei genitori che spesso non va al di là del 5% e con liste di candidati che talora vengono messe insieme grazie anche alle sollecitazioni dello stesso dirigente scolastico. Il tema, come si può immaginare, è decisamente interessante, quindi noi continueremo ad occuparcene, per cui continuate a seguirci su questo canale e soprattutto sul nostro portale www.tecnicadelascuola.it Oltre a leggerci, continuate anche a scriverci, daremo conto anche delle vostre osservazioni, dei vostri commenti e delle vostre proposte. Grazie a tutti.